Musica E' nero l'ho Bello ragazzi sono Xeven e benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Oggi come potete vedere sono sul canale di Xstarter No tranquilli non l'ho rapito, non l'ho ucciso o cose del genere Semplicemente mi ha chiesto di fare un video perché lui non si sente bene in questo periodo Ma non temete, tornerà presto, forse Ma vabbè comunque non ci interessa Oggi vi farò vedere un semplicissimo glitch per avere il corpo invisibile Quindi prima di iniziare come sempre vi invito a lasciare un mi piace a questo video Iscrivervi al canale di Xstarter E se Starter è una brava persona lascerà anche il mio canale in descrizione Quindi vi invito a passarci dato che anch'io tratto GTA E altrimenti se non lo farà dislike Vabbè a parte di scherzi, cominciamo subito Per prima cosa recatevi ad un qualsiasi negozio di abbigliamento E andate vicino alla commessa per aprire i completi E aprite la categoria completi colpo tattici E scegliete il completo la guerriglia Una volta fatto ciò dirigetevi verso un punto per poter scegliere l'abbigliamento per le parti superiori E andate su giubbotti da lavoro Che li troverete alla fine E scegliete nessun giubbotto E come potete vedere ecco che il nostro corpo è scomparso Quindi il glitch ha funzionato correttamente E come avete visto è veramente veramente facile Ragazzi il video finisce qui Io ringrazio Xstarter per avermi fatto fare il video Vi invito ancora una volta a lasciare un mi piace a questo video Iscrivervi al canale di Xstarter per altri contenuti di GTA Inoltre vi invito anche a passare per il mio canale Che probabilmente troverete in descrizione Per qualsiasi problema potete scrivere giù nei commenti per darci una mano Anche se credo che non ce ne sarà bisogno Dato che il glitch è molto facile E niente da X7 è tutto Noi ci vediamo sul mio canale Bella Ciao 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 Ciao